Hobbes riconosce che il potere è una categoria che si può applicare a tutte le relazioni intersoggettive, anche per esempio alla ricerca della verità in quanto è comunicata tra gli uomini. Hobbes è ossessionato dalla questione non se una teoria è vera, ma a chi interessa che questa teoria sia vera. In questo Hobbes è un padre della logica della modernità, mentre un filosofo antico prima di tutto cerca di capire se una posizione è vera, Hobbes non è paragonabilmente interessato a questa questione quanto all'altra, perché è interessante, perché è nell'interesse di qualcuno che si creda che questa teoria sia vera. Hobbes non è paragonabilmente interessato a questa questione non è paragonabilmente interessato a questa questione. Hobbes non è paragonabilmente interessato a questa questione non è paragonabilmente interessato a questa questione.